Ciao Fabrizio, raccontaci la tua storia, quando hai iniziato ad appassionarti al mondo cinematografico? Beh, fin da quando io ho memoria, diciamo che ho sempre voluto, sognavo per me stesso il cinema, magari da bambino ero già un gran cinefilo, a 6-7 anni ho proprio iniziato a gustare il piacere con le VHS, del cinema stesso, anche del cinema horror, che è quello in cui un po' più mi ha plasmato nel tempo e non ho mai avuto dubbi appunto nella mia vita su quello che avrei voluto fare, magari fino a una certa età non ero sicuro del ruolo che avrei voluto rivestire, magari mi sarebbe piaciuto stare davanti alla videocamera o dietro o in sceneggiatura o nel reparto effetti speciali che mi affascinavano tantissimo, guardavo tantissimi contenuti speciali di tfd, con i make-up, con gli effetti speciali, con le scenografie, quindi ero appassionato a 360 gradi dal mondo del cinema e poi crescendo chiaramente ho capito che la mia principale vocazione era quella di voler raccontare delle storie, il metodo che ho scelto, appunto quello cinematografico, negli anni mi sono specializzato nella regia principalmente ed è per questa che sono conosciuto adesso. E i tuoi punti di riferimento nel cinema in generale? Guarda, questa è una di quelle domande che può sembrare semplici ma in realtà sono molto difficili perché un gran cinefilo come me che guarda tantissimi film, che apprezza tantissimi registi, che ama un po' tutto, molto complicato, se tu mi chiedi i miei dieci film preferiti non te li so dire, anche se ne ho visti migliaia nella mia vita probabilmente. Posso dirti che più che per i miei punti di riferimento che sento miei, mi hanno fatto notare altre persone con una certa competenza tecnica, una certa competenza stilistica, nonché anche altri registi, vedendo delle mie opere mi hanno fatto notare che ricevevano un certo feeling simile a quello che potevano ricevere guardando delle opere di Werner Herzog, che era uno dei miei registi preferiti. Però io non lo avevo ancora, non avevo fatto questa specie di abbinamento con il mio stile. Gli amo tantissimo il cinema di Herzog, amo tantissimo il cinema di Sergio Leone, riscopro adesso, un po' in ritardo purtroppo, ma sto riscoprendo tantissimo il gotico italiano del maestro Mario Bava e ci ripeto tantissimo di quello che è il mio stile, quindi anche inconsciamente diciamo che ho preso da tantissimi maestri del passato, sia italiani che non, però ripeto, è difficile dare dei punti precisi a dei punti di riferimento, però ripeto, uno come me assorbe un po' da tutto il contesto cinematografico che lo circonda e poi ricreva seguendo il mio stile che negli anni si è andato da linea. Ma come funziona il processo creativo di un film? Come inizi? Raccontaci. Io posso parlare chiaramente per il cinema indipendente, che è il settore al quale io attualmente appartengo, la cosa principale ovviamente è una buona idea, perché la gente pensa, tante volte mi è stata posta questa domanda, il limite diciamo tecnico del budget, in realtà con la storia adeguata, con la giusta idea e con un team di appassionati professionisti, il limite del budget può essere scavalcato. Il primo passaggio è chiaramente la realizzazione di un soggetto che poi viene trasformato in sceneggiatura, successivamente si iniziano a fare i casting, contemporaneamente la scelta delle location, i più furbi dovrebbero anche cercare dei finanziamenti, cose che io non sono bravo a fare, quindi ci siamo sempre un po' con Calama Film Autoprodotti, però fatelo, perché con i vari film commission, tramite la sponsorizzazione, un aiuto economico certamente può venire dato. E poi si arriva al momento più bello della realizzazione di un film, ovvero il set, quando hai tutto pronto e si inizia a girare lì parte la vera magia. Diciamo questo è il prima, il dopo invece la promozione di un film e come funziona? Quella è la parte più difficile, la promozione, perché ci sono tanti bei prodotti che vengono realizzati e poi è difficile farli vedere, soprattutto in Italia, sto scoprendo, perché siamo un pochettino esterofili, nel senso che diamo per scontato che qualsiasi cosa venga realizzata fuori sia automaticamente migliore. Infatti, diciamo che il mio agente per la distribuzione di Dio non ti odia, chiedendomi, ma tu preferisci uscire prima in Italia o prima all'estero? Io avevo pensato che l'Italia fosse la cosa migliore, il mio paese, la mia patria, insomma, farò vedere un pochettino. Invece mi hanno detto, no, se puoi vai prima all'estero, perché quando tu torni in Italia e dopo sei restato all'estero, chissà perché sei bravo, mentre se tu sei italiano, no, vabbè, sei un italiano, quindi figurati cosa puoi riuscire a fare il cane, è una cosa tristissima, poiché in Italia ci sono tantissimi registi eccezionali, senza andare a scomodare il passato, che noi negli anni 50, 60, 70, 80 abbiamo avuto alcuni dei registi più grandi del mondo, che hanno cambiato il modo di fare cinema a 360 gradi. La promozione è difficile, diciamo che grazie ai social network farsi conoscere adesso è meno complicato che in passato, chiaramente ci sono delle agevolazioni rispetto agli anni 90, prima anni 2000, chiaramente, negarlo sarebbe da pazzi, però è difficile. Ci sono i festival di settore, perché sono un mercato spietato, sono un mercato duro, io con Dio non ti odia che è il film finito l'anno scorso, è stata la prima mia esperienza con i festival, perché i lavori precedenti non li avevo mai mandati in giro, erano per me, li consideravo gavetta, appunto, anche se ho fatto delle cose che hanno avuto dei buoni riscontri, dei buoni successi, eccetera, eccetera, per me era tutta gavetta, roba realizzata per il web, è realizzata principalmente per me per capire come fare e per migliorare. Il primo prodotto, quello che vorrei fosse considerato come opera prima, è appunto Dio non ti odia, e ha vinto un po' di festival, però soprattutto all'estero, qua in Italia anche abbiamo ricevuto dei premi, però all'estero c'è stata un'accoglienza più calorosa, anche più curiosità, non a caso è stato più semplice appunto distribuirlo, perché dopo qualche vittoria è stato proposto a degli americani che l'hanno visto, è piaciuto, e lo stanno distribuendo loro, quindi, insomma, è un peccato, perché è un po' così per tutti gli artisti. L'Italia... Ci arrivi dopo. Non solo ci arrivi dopo, non è il paese migliore dove poter svilupparsi, a volte sembra di remare contro, non è una bella cosa. Cioè fa un certo effetto essere apprezzati a migliaia di chilometri di distanza, mentre magari girando per le strade del mio paese nessuno sa quello che facciamo, magari lo sanno ma non gliene importa niente, o magari lo sottovalutano, magari lo sanno e lo sottovalutano. Questo fa dispiacere, che è un regista americano in gamba, di cui ho visto dei lavori eccezionali, mi ha mandato un'email per complimentarsi, il cuore mi è arrivato in gola per l'emozione. americano, qualcuno anche qui in Italia lo fa, però... strano, peccato. Complicato. Spero cambi questa situazione, quest'amore esterofilo per principio. Secondo degli studi, i social hanno abbassato l'attenzione di tutta la popolazione ormai. Questo, secondo te, ha compromesso l'importanza e la bellezza di una pellicola? Sì, sì, in maniera grave e sotto certi punti di vista terribile. Te lo dice uno che ha uno stile registico, sto scoprendo, molto apprezzato dai cinefili, ma magari mal digerito dal pubblico standard, che è quello a cui comunque è meglio rivolgersi per poter portare a casa la pagnotta, diciamo. Che significa che io ho un montaggio, uno stile registico, uno stile montaggico abbastanza riflessivo, in alcuni contesti lento sono delle scelte. La soglia dell'attenzione del pubblico, essendosi drasticamente abbassata, ma non soltanto per colpa dei social, probabilmente ne parleremo anche dopo, ma anche per via del format della serie tv che sta piano piano distruggendo quello del cinema, cioè dopo 30-40 minuti il pubblico non ne può più di vedere un film. Mentre i film tendenzialmente di media durano un'ora e mezza, due ore, per alcuni risulta anche pesante. Pensa a quando poi escono quei film di tre ore, quattro ore, adesso la gente non riesce più a guardarli. Il che è terribile! Per quanto riguarda questa soglia dei video, delle storie di 15 secondi, a me una volta hanno chiesto di realizzare un trailer di un mio film di 59 secondi da mettere su Instagram. Dico 59 secondi va bene, però non è una cosa positiva questa fretta, ogni opera ha il suo tempo. Facciamo un esempio, io ti porto a vedere un quadro bellissimo, ti do 30 secondi per guardarlo, e poi andiamo all'altro quadro, è la stessa cosa. Uno, ognuno, ha bisogno del proprio tempo per assimilare una forma d'arte, il cinema è una forma d'arte. Forse questo non è condiviso da tutti. Che il cinema è una forma d'arte? Mi dispiace per loro. Io non condivido la loro pensiera. Ci sono alcune forme di cinema che sono opere immortali, identiche a una grande opera di Leonardo da Vinci o di Michelangelo. Il cinema è arte, però il fatto che il pubblico non sia più abituato a dei montaggi riflessivi, lenti, i montaggi del western, cioè, ragazzi, il western si basa sulle distese, sugli sguardi, cioè, la fine del buono, il brutto e il cattivo, cinque minuti di Il Triello, con il famosissimo pezzo di Morricone, Il Triello, sono cinque minuti di musica, con loro fermi, cioè, Eli Wallach, Clint Eastwood e Lee Van Cleef, cioè, il buono, il brutto e il cattivo, che si osservano per cinque minuti. Ragazzi, è meraviglia! Io ho i brividi solo a ripensarci, ma la gente adesso direbbe... Che noia. Eh, vabbè, perché? Ma non potevi... Ragazzi, ogni opera ha la sua forma. Poi, ogni artista, ogni regista, ogni montatore, ogni sceneggiatore, presenta un'opera con una determinata potenza, una determinata enfasi, che se tu vai a modificare per i gusti del pubblico, allora facevi prima non farla direttamente. Dio non ti odia. Sì. Sempre torno lì, che il film, l'ultimo realizzato, è un film che ha delle sequenze lente, perché analizza la sofferenza di un padre, in un viaggio che lui deve fare, sia fisico, ma soprattutto spirituale, e quindi chiaramente non puoi fare una corsa, devi fare un percorso. Quindi è inutile andare a dire, però è un po' lento, poi i gusti sono gusti, ognuno ha la sua soglia, però è indubbio che io non ho mai sentito, negli anni 90, sentire qualcuno parlare male di Balla coi lupi, un film bellissimo, di Die con Kevin Costner, tutti l'abbiamo visto, un cult, tutti lo conosciamo, un capolavoro, è sotto tre ore e mezza di film. Ora mi esce Scorsese con Irishman, uscivano i post per prendere per il culo la durata. Io non ho ancora visto il film, ma è uno Scorsese, sono sicuro che mi piacerà, ma porca miseria, vedere i meme che lo prendono in giro per la durata, mi fa capire, dico ma di che stiamo parlando? Fabrizio, secondo te Netflix ha compromesso il cinema e le sale? Che rapporto c'è secondo te dall'avvento di Netflix? Allora, diciamo che la pirateria prima, e lo streaming in generale, sta distruggendo il rapporto dell'uomo, uscita un po' solenne dell'uomo, il rapporto del pubblico con la sala. Netflix, se vogliamo, è la goccia che fa traboccare il vaso. Io non sono un amante dello streaming, ancora riesco a concepire chiaramente quello legale, quindi quello a pagamento, con abbonamento, è il futuro, non mi piace, ma è in dubbio che comunque è il futuro. Netflix non sono un grandissimo fan, non l'ho mai attivato, non mi interessa, perché mi dicono spesso, no, però sai, dovresti vedere quel film su Netflix è bello? Ok, chiaramente, ma io a caso ho una piccola videoteca personale che continua a infoltirsi, perché sono un grande, diciamo un collezionista di film da sempre, prima VHS, DVD, adesso i Blu-ray, io ho sempre film da vedere, però secondo me è molto più bello per me vedere un film che ho acquistato, che ho comprato, quindi sto dando un valore a tanta gente che ha investito tantissimi soldi, che ha pagato tantissime persone, cioè il cinema è un'industria che dà lavoro alle persone, piratando, chiaramente, e che è diventato talmente facile piratare, che nemmeno, cioè abbiamo perso il contatto con questo tipo di realtà, cioè è talmente semplice, vediamo una notizia sul social network, è uscito questo, che bello, lo cerco, lo vedi, hai rubato. Netflix è la risposta alla pirateria, diciamo che anche grazie a Netflix, Amazon Prime, Chili, Infinity, ce ne è tantissimi, so letto che la pirateria sta subendo dei brutti colpi, questa è una cosa ottima, perché per quanto, ripeto, non sono un amante dello streaming, comunque una forma di abbonamento, poi anche diciamocelo, quando una cosa la paghi, secondo me acquista un valore diverso, cioè un libro acquistato, siamo in una libreria, quindi prendo l'esempio, c'è un libro acquistato, pagato, letto, sudato, messo poi a un certo ricordo, c'è un PDF scaricato ragazzi, ha lo stesso valore di... poi molti dicono, eh vabbè ma io il film lo guardo in streaming, poi se mi piace lo compro, sì, uno non devo vedere se è vero, nessuno va a controllare, due ragazzi, ripeto, non sono un grande amante di Netflix, però non sono neanche un ipocrita, se Netflix mi desse la possibilità di lavorare, chiaramente, che io sono un collezionista, ma non sono un fesso, avallerei l'idea, il rapporto con la sala, certo, dispiace, dispiace perché vedo i cinema, sempre più vuoti, e anche quello è, ragazzi, il cinema si chiama cinema perché, perché, perché vai al cinema, cioè, è talmente semplice, non si chiama tablet, non si chiama cellulare, cioè io mi incazzo, quando la gente vede le mie cose sul telefonino, perché certe volte me le aprono davanti, ah guarda, ho visto questo, bello, e io mi incazzo, dico, te lo guardi al telefonino, cioè io ci ho lavorato sei mesi, per fare quella cosa, e tu lo guardi al telefonino, almeno guarderò il computer, se proprio non vuoi guardarlo in tv, e quindi figurati, quando vedo le sale vuote, anche quello è un settore, ripeto, che dà da mangiare a famiglie, purtroppo i cinema chiudono, così come chiudono le, le videoteche, cioè ragazzi, io quando, me la buttavo, quando marinavo la scuola, ho fatto tantissime volte, io passavo le mattine da blockbuster, e adesso, grazie a Dio ho finito la scuola, non dovrò più tornarci, perché, però, ragazzi era magico, io passavo le ore da blockbuster, le ore a guardare, con i miei amici dell'epoca, sfogliavamo, prendo un filo nuovo a guardare, lasciando la battutaccia sulla scuola, ragazzi, non fate come me, siete dei buoni studenti, che è meglio, si perde quella magia, e un'altra cosa che si sta perdendo, è anche il rispetto, per gli altri, dentro le sale cinematografiche, perché se io vado in una sala cinematografica, devo avere la luce, del simpaticone, che deve farsi le storie, da mettere su Instagram, o il flash, ho visto, capita soprattutto con i film più commerciali, diciamo, io amo sia i film, il cinema d'autore, sia i film più commerciali, ma non vi dico, quando ho visto Il Re Leone, quando ho visto Aladin, il remake in live action, cioè, era, flash, 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 foto, cose, audio messaggi, gente mandava audio messaggi, cioè, veramente, io stavo impazzendo, sono al cinema, sono al cinema, evento raro, cioè, io sto impazzendo, io impazzivo, questa è una cosa terribile, bisognerebbe intanto recuperare il rispetto per gli altri, perché se io pago un biglietto, io pago 7,50 euro, 8,50 euro, quanto è, per vedere un film lo devo godere, nella massima tranquillità possibile. Fabrizio, parlaci di Calama Film, e oltretutto, com'è fare il cinema, a Palermo, in Sicilia? Allora, Calama Film è la società di produzione che ho fondato, insieme a due soci, alla fine del 2017, che poi in realtà è stata la normale evoluzione di un percorso che ho fatto con un gruppo di persone con le quali già lavoravo da anni, nel senso che a un certo punto abbiamo preferito fare il passo importante, e istituirci legalmente per poi avere anche dei contatti con le distribuzioni, con le cose, è importante avere una forma di, chiaramente, giuridica, esatto, un certo peso anche per non presentarsi da privati. Ripeto, noi realizziamo dei prodotti, facciamo tanto, abbiamo anche fatto dei corsi di recitazione, abbiamo fatto degli eventi, veniamo spesso invitati in vari punti. Calama Film è una piccola realtà che comunque sta facendo sicuramente parlare di sé e sta facendo bene, a conti fatti il cinema in Sicilia non esiste in maniera potente, ci sono tante piccole realtà indipendenti, alcune di buona qualità, altre chiaramente che hanno ancora tanta strada da fare, però c'è tanti che ci provano, però al di fuori di Roma o comunque principalmente nel sud Italia non c'è una vera e propria industria cinematografica. Noi nel nostro piccolo stiamo provando a crearla e ci stiamo riuscendo, perché obiettivamente siamo arrivati al terzo lungometraggio, i corti ce ne vengono fatti tanti, allenamento, gavette, divertimento, perché non c'è gente, però i film sono chiaramente quelli più importanti, siamo al terzo lungometraggio come Calama Film. Non è il posto migliore in cui far cinema la Sicilia, anzi è uno dei posti peggiori probabilmente d'Italia. A livello... Siamo isolati, siamo isolati. Quindi parli non come scenografia? No, come scenografia naturale è fantastico, abbiamo tutto, abbiamo il mare, abbiamo città, abbiamo paesi medievali, abbiamo l'Etna, per dire, abbiamo di tutto. Non è un miglior posto dove far cinema da un punto di vista proprio della gente, non è un bel ambiente, non ci troviamo bene, c'è molta ostilità, molta preoccupazione, scarsa collaborazione, moltissima presunzione, infatti non ti nego che mi trovo molto più a mio agio, nonostante anche qui ci siano dei colleghi, delle persone che stimo e che penso mi stimino, con cui abbiamo dei bei rapporti, comunque sono più conosciuto e mi trovo meglio con colleghi da Roma in su, e questa è una realtà che mi dispiace, però è anche innegabile, non si può negare. Volevo dirti, invece che ne pensi di Tornatore, perché è uscito da Bagheria? Tornatore è un grande. Io personalmente non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai incontrato, mi piacerebbe tanto, essendo un suo concittadino, non credo lui sappia che esisto, magari prima o poi avremo modo di scambiarci, il suo cinema è fantastico. Banalmente ti posso citare il nuovo cinema Paradiso, ripeto, di che stiamo a parlare, però andando anche avanti ci sono dei film bellissimi che io ho amato, di cui se ne parla magari poco, come La Sconosciuta, bellissimo thriller, con Michele Placido, forte, proprio mi è rimasto impresso, oppure Il Baria, un colossal ragazzi, un grande Cino, un tornatore, un maestro, un grande. Fabrizio, una cosa che ho notato guardando alcuni tuoi lavori che trattano l'argomento di mafia, è il fatto di non mitizzare, come fanno in realtà altre serie tv, la parte del mafioso, del gangster. Questa è una scelta drastica. Spiegaci il tuo punto di vista, che condividiamo ovviamente. Questa mitizzazione della figura del mafioso data dal cinema, con il bono di turno, l'affascinante, il Gabriel Garco, per me è una cosa terribile, nel senso che se dobbiamo parlare di mafia, la mafia deve essere distrutta, deve essere sbeffeggiata, deve essere ridicolizzata, deve essere appunto annientata. Nei miei progetti, penso che tu ti stia riferendo al corto profissù. Non sono dei veri e propri mafiosi quelli che fanno l'attentato al professore, però sono comunque delle persone con la mentalità mafiosa, quindi siamo lì, sono comunque dei complici. E chiaramente lì devi mostrare la vera aspetto dell'uomo, perché io dovrei mitizzare delle figure che non hanno nessun valore artistico, non è che io sono Francis Ford Coppola, che sto girando il padrino e quindi vado a mitimizzare con Marlon Brando. Dobbiamo raccontare le cose come stanno, è una situazione che va assolutamente annientata, quindi il mio criminale è un vero terra-terra, è feroce, è crudele, non è bello, non è assolutamente avvenente, non è un figo. Dobbiamo combattere queste cose. Allora le varie figure che hanno combattuto la mafia, dai giudici famosissimi, non c'è neanche bisogno di citarli, a Peppino Impastato, a tutte le vittime, e perché cosa l'hanno fatto per poi avere le fiction del cavolo? Noi siciliani non siamo la mafia, io non sono la mafia, voi non siete mafia. Sta libreria non è mafia, è qualcosa di meglio, qualcosa che deve esprimere. Quindi se io tratto la mafia, la devo trattare nella maniera corretta. È il motivo per cui i miei mafiosi non saranno mai fighi. Fabrizio, poco fa parlavi di tre film fatti con Calama Film, comunque tre progetti importanti. Se puoi raccontarci di questi progetti. Sì, chiaramente spegniamo due paroline, non di più per tanti motivi. Il primo, che è l'unico che attualmente è possibile vedere su YouTube, perché, ripeto, essendo stato girato circa quattro anni fa, era un prodotto che comunque, nonostante stia avendo un buon successo, di cui non possiamo che essere contenti, la finalità comunque era quella sempre della gavetta, sempre del web, che è Bork and the Beast, è un fantasy. E ripeto, su YouTube è gratuito, ho andatelo a vedere per farvi un'idea. Sta piacendo tanto, a livello anche di view, di visualizzazioni, cosa che, aspetta, non è che hanno un vero valore effettivo, chi se ne frega. Ci sono dei prodotti eccellenti, che ne hanno di meno, prodotti ottimi, che ne hanno ancora di più, quindi non stiamo qui a pensare alle visualizzazioni, però sta andando bene. Questo è un fantasy puro, un po', a volte viene detto l'erede di Fantaghiro. Poi, già citato in precedenza, abbiamo Dio non ti odia, che è un film che ha vinto alcuni premi, sia come film drammatico e come film horror, uno dice, come è possibile? Perché è una commissione di generi, diciamo, è un film in costume, comunque è più o meno hot settecentesco, che ha una forte componente drammatica, e nella parte finale sfocia con alcune suonature fantasy, horror. E diciamo che questo è il progetto che ha avuto dei successi, perché abbiamo vinto vari premi internazionali, sia in Italia, ma soprattutto all'estero, in Inghilterra, abbiamo vinto in Russia, tante cose. Soddisfazioni. Cose belle, fa capire che qualcosa di buono la stai facendo nel tuo lavoro, e questo film, presumiamo, uscirà presto anche in Italia, perché una volta che alcuni paesi esteri si sono interessati, altri stanno interessando, stiamo anche attendendo delle risposte per l'Italia, e quindi presumibilmente potrete vederlo, penso, nel 2020, anche qui in Italia. Mentre il nuovo film che stiamo attualmente girando, che è il più ambizioso, diciamo, è un thriller, si chiama Il Buio del Giorno, questo lo abbiamo anche cofinanziato grazie a una campagna di crowdfunding che si è conclusa positivamente, quindi colgo l'occasione anche per ringraziare nuovamente le varie persone che ci hanno fatto una piccola donazione. Questo film è un thriller, c'è il trailer su YouTube, quindi se siete curiosi potete andarlo a vedere, anche su Dio non ti odia, insomma, per Dio non ti odia c'è il trailer. Questo è un thriller, però, ambientato ai giorni nostri, quindi abbiamo abbandonato per il momento la ricostruzione, diciamo, storica degli avvenimenti. Siamo particolarmente fieri di questo film, di come sta avvenendo su, perché vantiamo delle collaborazioni importanti. Quindi ragazzi, il buio del giorno stiamo lavorando, le riprese sono quasi finite, la postproduzione è iniziata, ma anche lì saranno mesi, e anche questo, una volta che sarà finito vedremo a come potervelo fare vedere, però chiaramente Dio non ti odia è più imminente. Allora, Fabrizio, tu da dove prendi ispirazione per scrivere un film, i dialoghi, come funziona? Guarda, chiaramente penso sia una cosa un po' comune a tutti gli sceneggiatori, io non è che sia uno sceneggiatore, però sceneggio quello che faccio, quindi sto iniziando anche a considerarmi tale, chiaramente. In realtà non c'ho un punto di riferimento specifico da questo punto di vista, chiaramente guardo tantissimi film e la base è quella, cioè un regista che non guarda i film, insomma, quindi guardo tantissimi film, ispirano tantissimo anche i videogiochi, ma soprattutto i libri. Io sono un avido lettore da sempre e chiaramente seppur non mi sono mai ispirato palesemente a un'opera, per esempio Dio non ti odia, io l'ho ideato dopo aver visto un film, Il Nosferato di Werner Herzog, uno dei miei film preferiti, l'ho visto la prima volta penso due anni e mezzo fa, mi folgorò, e poi avevo appena finito di leggere un romanzo di Stephen King altrettanto famoso che è Le notti di Salem, sempre in tema vampiri, e lì per lì queste due opere, che comunque anche tra loro, tranne il concetto del vampiro, non hanno nessuna influenza, mi sono reso conto che nei mesi successivi mi avevano talmente folgorato, mi erano entrate dentro che la mia mente in un momento di ispirazione, perché poi sai, quando tu l'idea la cerchi non ti arriva, l'idea arriva quando meno te l'aspetti, ho partorito questa idea che si è rivelata vincente e che aveva a che fare col vampirismo che si è evoluta poi in Dio non ti odia, quindi chiaramente l'ispirazione mi è arrivata da tutto il cinema e la letteratura horror riguardante i vampiri, però se non avessi visto quel film che mi ha cambiato, che mi ha folgorato, se non avessi letto poi quel libro che mi è anche colpito tantissimo, magari non avrei avuto l'ispirazione per Dio non ti odia. L'ispirazione, ripeto, arriva, il buio del giorno che è il thriller che abbiamo, che stiamo girando adesso, mi è venuta sempre dopo aver letto due romanzi thriller, in realtà non ha nessuna attinenza con questi due romanzi, cioè io adesso non dico quali sono, però se tu dopo aver visto il mio film leggi il romanzo non vedi dei punti in comune, anche perché, ripeto, l'ispirazione non è la trasposizione, che una volta dissi che Dio non ti odia e eri ispirato alle notti di Salem e mi chiesero ma i diritti come li hai ottenuti? I diritti? Ma di che stiamo parlando? Non c'entra nulla con quel romanzo il mio film, niente, ma la lettura di quell'opera mi ha fatto analizzare e mi ha fatto partorire una mia idea che è arrivata grazie a quello ma non ha un'attinenza diretta. Quindi, ripeto, questo, libri, film, videogiochi, qualsiasi forma di intrattenimento, di arte, di cultura può influenzare. Bisogna essere curiosi. Ma a te piace molto il genere horror, thriller, giochi? Io amo il cinema in toto, quello che amo un po' di meno sono magari le commedie e i musical, per quanto ci sono dei bellissimi musical, delle bellissime commedie che amo, che guardo, però sì, probabilmente i generi che più amo sono l'horror, la fantascienza, il fantasy, il thriller, sicuramente sì. Anche i film andrammatici mi piacciono, però quando sono contaminati con altri generi o troppo interessanti, perché l'esorcista è probabilmente il miglior horror mai fatto e anche uno dei film più belli della storia del cinema, perché non è la storia di una bambina posseduta dal diavolo, questa è la parte horror, mi segui, ma l'esorcista è la storia di una madre che deve capire come salvare sua figlia. Questa è la parte drammatica e l'esorcista ha una componente drammatica fortissima, se ci fai caso l'ultimo quarto d'ora dell'esorcista è puramente horror, poi è un bellissimo film drammatic, per questo è un capolavoro, cioè l'horror a sé stante magari mi piace, però preferisco quando riusciamo a contaminarlo, poi l'horror fantascienza di cui la summa è estrema e alien, per esempio, quello è un capolavoro, grandissimo cino. Cino per adulti tendenzialmente è quello che preferisco di più, ma anche il cinema d'animazione lo amo tanto, cerco di guardarne il più possibile, insomma. Tu in certi film hai fatto sia un regista che un attore, com'è fare, avere questo doppio ruolo? Allora, è una cosa che comunque non faccio più da tempo, perché in Work and the Beast, cioè il primo film, quello di quattro anni fa, è stata l'ultima volta dove mi sono messo davanti per un mio progetto, ho abbandonato nonostante lo amassi, nonostante avessi ricevuto buoni consensi anche da questo punto di vista, come attore intendevo, ho abbandonato perché volevo concentrarmi principalmente sulla cura delle riprese, della fotografia, eccetera, eccetera. Chiaramente essendo davanti fino a un certo punto hai la possibilità di, dico davanti alla macchina da presa, fino a un certo punto puoi curare la regia se sei anche attore, nel senso che comunque chiaramente l'operatore video ha un determinato spazio e io per poterle curare al massimo ho abbandonato l'idea di recitare i miei progetti però quando vengo chiamato per progetti di altri vado con piacere, lo prendo per divertimento, non sono un attore professionista naturalmente però lo amo, mi piace tantissimo soprattutto quando interpreto dei ruoli un po' estremi. dammi tre nomi gli attori preferiti film preferiti e registi preferiti tre solo tre argomentando spiegando questo è difficile cioè era difficilissimo se me ne chiedevi venti pensa tre vabbè allora Anthony Hopkins mio mito personale da incredibili interpretazioni dal silenzio degli innocenti fino al Dracula di Coppola che so The Elephant Man insomma Anthony Hopkins quando c'è in un film io il film lo devo andare a vedere altro attore che amo tantissimo Gregory Peck parliamo di un po' di più il promontorio della paura o il Moby Dick di Houston amo tantissimo Gregory Peck che difficile che domanda è Clint Eastwood dai perché è un mio mito lo adoro e passiamo ai registi Clint Eastwood che secondo me è il regista del americano se non mondiale del millennio perché è uno che nonostante avesse già fatto tantissimi bei film negli anni perché Clint Eastwood della carriera del regista l'ha iniziata negli anni 70 però uno che dagli anni dal 2003 in poi ti spara di fila Mystic River Gran Torino Shangri Million Dollar Baby Lettere da Iwo Jim The Mule adesso Richard Jewell cioè il film più brutto che ha fatto Clint Eastwood degli ultimi vent'anni è bello e gli altri sono capolavori quindi Clint Eastwood sicuramente per me registicamente è pazzesco andiamo sul banale Kubrick ti potrei dire Tarantino ti potrei dire Coppola ti potrei dire Spielberg te ne posso dire tantissimi Herzog già citato però ti voglio dire Mario Bava Mario Bava maestro del passato che praticamente Mario Bava è stato il maestro di tutti gli amanti dell'horror di tutti i maestri che poi sono diventati maestri a loro volta Lucio Pulci Soavi Dario Argento cioè Mario Bava è stato il primo grande regista italiano che ha inventato tantissimi generi ha portato il gotico nell'horror con la maschera del demonio del 60 un film meraviglioso incredibile tutt'oggi quando un film di 50 di 60 anni fa visto oggi ancora incredibile vuol dire che il genio c'era Mario Bava ha un orgoglio italiano e poi Sergio Leone di cui magari è un po' ereditato la cura per gli sguardi la passione per il montaggio lento e sofferto Sergio Leone con la trilogia del dollaro c'era una volta il West ma c'era una volta in America chiaramente ha fatto tantissimo e ripeto vi ho detto tre registi e due italiani quindi non sottovalutiamoci perché abbiamo fatto tanto per quest'arte noi tanto e poi mi avevi chiesto film ah tra film Lo squalo di Spielberg probabilmente il mio film preferito Shining di Kubrick è un terzo film sto cercando di dirtene qualcuno dei citati dai te la butto un po' più divertente Robocop fantastico Robocop chi non l'ha visto guarda il Robocop non è c'è uno dei miei film preferiti capisco non merita di essere in tre ma con queste domande complicate ti butto Robocop grande grandissimo film Fabrizio grazie per essere stato qui ti auguriamo il maggio e aspettiamo i tuoi prodotti con con tanto interesse grazie a voi ragazzi siete grandi grazie a voi grazie a voi